Fatto colazione con queste favolose crepes all'acqua. Ecco come si fanno. Unite la farina d'avena con l'acqua un poco alla volta, mentre mescolate energicamente con una forchetta. Poi unite anche l'uovo e mescolate il tutto fino ad avere un composto liscio. Dopodiché in una padella rovente mettete un po' del composto e livellatelo per bene. Poi giratelo dall'altra parte dopo pochi minuti. Ecco qui una delle crepe è pronta. Fate lo stesso con tutto il resto del composto. Ed ecco anche questo qui è pronto. Una volta che abbiamo tutte le nostre crepes possiamo farcirle a piacere. Questa è la ricetta per 4 crepes. Io le ho farcite con yogurt greco al caffè e fragole. Ecco qua il risultato ragazzi davvero buonissime. E adesso ce le gustiamo. Mangia bene, mangia salutare. Buon appetito. Seguimi per le prossime ricette. Ciao.